Archiviazione per Stefano, dopo le dichiarazioni di Mario Babuscio, aspirante collaboratore di giustizia, rese alla direzione distrettuale antimafia di Lecce. Non ci sono elementi per sostenere in giudizio l'accusa di abuso di ufficio aggravato dall'agevolazione mafiosa. È finita in archivio l'inchiesta aperta dalla DDA Salentina nei confronti del sindaco uscente Ezio Stefano, finito nel registro degli indagati a seguito delle dichiarazioni di Babuscio durante un interrogatorio lo scorso 19 novembre davanti al sostituto procuratore Lino Giorgio Bruno a Lecce. La posizione di Stefano era stata stralciata l'8 settembre scorso con un provvedimento dopo che la DDA aveva chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari Antonia Martalò un incidente probatorio per acquisire le dichiarazioni di Babuscio, condannato a un anno e quattro mesi di reclusione con il rito abbreviato nel processo Scarface che nell'ottobre del 2010 lo fece finire dietro le sbarre. Le dichiarazioni scottanti dell'aspirante collaboratore di giustizia hanno portato all'apertura di diversi fascicoli di inchiesta, tra questi quello legato al primo cittadino di Taranto riguardo alla gestione del bar del padiglione Vinci dell'ospedale Santissima Annunziata. Fu insomma un atto dovuto l'iscrizione di Stefano nell'elenco degli indagati e dopo gli accertamenti della squadra mobile di Taranto la DDA ha deciso per l'archiviazione.